intanto mi apro questo bustino qua ok 9 è uscito direttamente la coppia qua randolo di morte mago è uscito Sì ma per il guerriero o niente due magie casuali a tutti i tuoi personaggi si è un ruolo in mano due magie casuali in mano in altre classi ottimo l'attacco per ogni carta domani avversario il mio mazzo non verrà proprio potenza lontanamente oh c'è neanche una carta guerriero incredibile però molto per tutte le classi vabbè ah la coppia di queste epica stregona è un servitore casuale ripete l'attacco per ogni carta è una tua mano ma questa è buona ultimo c'è neanche una carta del guerriero diciamo che fa non ci stanno leggendario leggendario tutto dello stregone 20 a 12 numero massimo delle carte nella tua mano pesca 4 carte no sta spacca sta carta ok e questo è quanto Grazie.